Ecco fatto, apertura i cruz 2, faccio tutto io, eccolo qui, scelgo i cruz 2, molto bello, ti do io, zeta la formica, il principe d'egitto, gallina in fuga, sinbad la leggenda dei sette mari, Shrek 2, Shark Tale, Shrek 3, B-Movie, Baby Boss, Capitana Mutanda, il film divertente e i cruz 2, molto bello. Io, apro, io, chiudo io, fatto. Ora sta caricando. Adesso sì! Il titolo è il 3. Questo è molto bello. Italiano. Eccolo qua. Questo è molto bello. Questo è bellissimo. Il titolo è il titolo. Gai! Gai! Devi andare! Gai, va tutto bene! No! Figliolo, il catrave sta salendo! Devi andare via! No, non senza di voi! No, no, non guardare noi! Guarda dietro di te! Vedi la luce? Devi seguire quella luce! Ok? Non fermarti, non nasconderti, segui la luce! Adesso stacco io!